Speriamo il tempo bello. Noi siamo pronti per fare il Carnevale 2013. Apriamo sabato con la sfilata, ci sarà il gruppo svizzero dei Pampers che ci accompagnerà a fine in comune per la consegna delle chiave Antonio La Cia 2013. Poi ci sarà la domenica del Carnevale Limitrofi e andremo alla Cappuccina e andremo a Cosacca. Noi è quello di aver inserito il Carnevale multietnico, quindi la cittadinanza che ormai è una cittadinanza multietnica offre Antonio La Cia un viaggio culturale, un viaggio attraverso i cinque continenti, quindi musica, colori, FIAB e tutto al Teatro Galletti. La cittadinanza quindi è invitata a questo spettacolo che noi offriamo a Antonio La Cia. La Cia 2013 è? Ciao, sono Elisa, ho 24 anni e frequento l'Università di Milano Farmacia. Domenico e faccio il cameriere. Più di cent'anni, anzi 140 anni di vita, sicuramente più che tradizionale e ovviamente radicato nella storia, soprattutto con il matrimonio Antonio La Cia e della Corte di Mattarella che ricostruiscono questo evento, diciamo così, seicentesco. Ma quest'anno grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale avremo la sfidata dei Carri, il giorno del Carnevale Ambrosiano, diversamente dagli altri anni. Poi una rappresentanza delle diverse etnie che ci sono a Domodossola. La nostra sfidata, soprattutto invece la domenica, dei gruppi partirà dalla Capuccina nell'intenzione dei prossimi anni di visitare tutti quanti i rioni della stagione.